non capisco io continuo andare avanti indietro queste isole e ritorno sempre qua non capisco sono sempre qui o ci riprova un'altra volta sono sempre qui sempre qua mi ritrovo sempre qua cosa cavolo sono queste scritte che sono apparse esamina rompi prendi succhia ma non ci capisco più niente ma dove cavolo sono e bello è che qua c'è un cartello ma non c'è scritto niente come faccio a cercare aiuto perché non esamini cartello è consumato un aiuto che ne restano solo quattro e questo cos'era ma chi ha parlato da dove dire questa voce l'ho già guardato il cartello non c'è scritto niente boh a questo punto esamina cartello sul cartello c'è scritto adventure island roba da pazzi e che cavolo è questa voce misteriosa è una voce bellissima meravigliosa ma fatti cavoli tuoi non è importante di chi sia vabbè sappiamo che mi trovo su adventure island comunque io adesso è tanto che non mangio devo mangiare qualcosa ho visto una pianta da coccola quindi adesso andiamo a prendere se riesco non viene via dannato cocco non viene via proviamo non viene via non ditemi che prendi cocco io non riesco a credere questa cosa non può essere tutto così su quest'isola allora diciamo che facciamo un esperimento succhia il cocco non puoi succhiare il cocco se non lo rompi ok ok lo rompo subito non si rompe e va bene rompi il cocco rompendo il cocco ti accorgi che il cocco non ha succo ma dentro ci trovi un biglietto c'è scritto fine della puntata e ci trovi una chiave dentro a si si l'ho l'ho visto il biglietto si si e si c'è anche la chiave la chiave ma io ho fame cioè ho capito che con questa chiave qua cosa ci faccio io io ho fame signora voce si signora voce o signora voce ho detto fine della puntata sei sordo oh non ti incazzare ma io con questa chiave non è che non è che mi apre da qualche altra parte e comunque sono due le chiavi e cioè vabbè allora ma probabilmente una mi apre mi farà uscire di qua proviamo prima non fa niente la prima non fa niente andiamo con la seconda ho sentito un suono si è aperto qualcosa oh porchi cavallucci di mare di male in peggio perché pirati noi siamo e noi comandiamo questa bossola non va ma perché lavora su windows 10 mi brude l'occhio ma io ho tutti e due gli occhi sani e lo sapete io lo faccio per bellezza questa cosa della benda taglia taglia sta battuta di merda il massimo la metti nelle scene tagliate il cavolo cocco bello cocco fresco ah io penso ancora la mia barca rotta once more you open the door i believe that you hear him a breath metti in alto la mano io qui siamo in balsarda porto subito il tetto ma che cocco è qui qui